Marco Tarabella o il suo collega Gianluca Buonanno è appena tornato dalla Libia dopo aver detto che tutti gli altri loro deputati sono sostanzialmente dei cagasotto e che l'Europa non fa niente a riguardo. Cosa ne pensa? Di Buonanno niente. Da quando lo conosco la Commissione di Agricoltura ha cominciato a dire cazzate. Lui si fa eleggere per solo dire cazzate, passare in tv, ma lavorare non l'ho ancora visto, lavorare in un modo intelligente. Buonanno penso non sa lavorare in un modo intelligente. Quindi Libia cosa avrà fatto secondo lei? Non ho commenti, non sono in politica straniera, non voglio commentare i commenti di uno che non vedo lavorare in Parlamento. Si cammina qui nel Parlamento con scritto Buonanno perché magari come non lo vediamo spesso lui così vuole farsi riconoscere, ma lo conosciamo, ma solo per le sue cazzate. Grazie.